Le cose che abbiamo realizzato in questi anni, dico abbiamo, perché insieme a me c'è tutta la giunta. Fano 5 Stelle dichiara in un comunicato che il sindaco Seri nel suo discorso di fine anno ha omesso alcuni punti chiavi che voi invece volete rimarcare. Sì, secondo noi Seri nell'incontro, nella conferenza stampa di fine anno ha omesso dei passaggi molto importanti perché ha fatto una narrazione di quella che è la vita della città di Fano solo dal suo punto di vista. Naturalmente non ha detto delle cose che forse gli risultavano scomode o indigeste come il fatto che il Movimento 5 Stelle non solo in quest'ultimo anno ma nei tre anni scorsi è stato non solo critico nei confronti della sua amministrazione ma anche spesso propositivo portando anche dei buoni risultati. Per esempio ha omesso completamente il supporto che ha avuto da Roberta Ansuini che è l'ex consigliera del Movimento 5 Stelle il cui lavoro di una notte ha portato poi alla presentazione in regione di un emendamento tramite cui Fano è rientrata nei fonditi. E questa cosa è spiacevole perché fuori dai microfoni invece Seri riconosce questo stimolo che ha avuto come riconosce lo stimolo che ha avuto anche sulla questione del dragaggio del porto in cui avevamo proposto a Seri alcune cose da fare proprio operative per il primo dragaggio e in quella volta Seri aveva detto che eravamo poco dentro la materia e invece poi si è scoperto che le indicazioni che gli abbiamo dato sono state quelle che poi ha messo in campo lui stesso per risolvere in parte ad oggi il problema. In ultimo per esempio la questione della piscina. Fano nel 2018 avrà finalmente la sua piscina, ci dice Seri, però speriamo che sia così ma si dimentica di dire che rinuncerà Fano alla gestione della casa per anziani Don Tonucci che avremmo invece diritto di avere fino al 2038. Allora un tema però sempre per voi molto caldo e ancora sul piatto è la sanità e il Santa Croce. Certo, anche questo tormentone che ha preso piede dal 28 sera e è stato portato avanti anche da alcuni esponenti del PD nei giorni a seguire cioè che Fano avrà finalmente due ospedali, addirittura avrà due ospedali uno pubblico efficientissimo e quello privato di cui ancora si sa poco è chiaro che assomiglia molto alle cose dette prime cioè che sono delle promesse elettorali ma i cittadini di Fano penso che valuteranno tra un anno e mezzo perché manca ancora tantissimo alle prossime elezioni cioè questa è una campagna elettorale che è iniziata molto presto comunque saranno in grado di valutare i fatti e non le promesse elettorali. L'idea di città e quale sviluppo deve avere la città? Grazie.